Sembrerebbe essere ormai una notizia ufficiale. Robert Pattinson, famoso attore reso tale grazie ad una serie di film sentimentali dalla trama parecchio controversa, indosserà la maschera del nuovo Batman cinematografico. Inutile dire che le reazioni del web sono state molto contrastanti, arrivando persino a creare petizioni per rimuoverlo, ovviamente. Fatevene una ragione, lui sarà il nuovo Batman e con questo video voglio farvi ricredere proprio su quest'attore, mostrandovi alcuni film nel quale mi è piaciuto veramente un sacco. Ci tengo anche a sottolineare che per lui stesso, come attore, come persona, il ruolo di quella famosissima saga gli è costato parecchio, arrivando persino a farlo pentire di averlo accettato. E sì, qualcosa vorrà pur dire, credo. Ebbene, iniziamo questo elenco di film. The Rover del 2014. Un film ricco di anarchia e di disordine. Un'Australia collassata, dominata da una costante disumanità nella quale alcuni individui cercano di sopravvivere. Una vera e propria distopia post-apocalittica parecchio angosciante, che scava nel profondo alla ricerca di empatia e compassione. Splendida parte del film, secondo me, è il rapporto tra Robert e Guy Pearce, con il quale intraprende un rapporto di allievo-mentore, diciamo. Cuore pulsante dell'intera vicenda. Pattinson interpreta al meglio un ragazzo di buon cuore, forse fin troppo ingenuo per vivere in un mondo del genere. Quindi un personaggio molto difficile da tenere, che però riesce a renderlo ridicolo nel modo giusto. Questo film è stato una vera sorpresa per me. High Life del 2018. Splendida allegoria fantascientifica. Un uomo ed una neonata, con attorno il silenzio ed il vuoto dello spazio. Un mondo nel quale l'unica speranza è l'amore di un uomo nei confronti di questa bambina. Robert regge sulle spalle l'intero film. Visibilmente dimagrito, imbelico tra i gesti delicati della vita, ci regala forse in questo la sua versione più matura e sofisticata. Il turbamento umano che rappresenta è quindi più che riuscito. Civiltà perduta del 2016. Un interessante film composto da avventura e ossessione. Basato sulla sofferta storia vera di Percy Fawcett, un esploratore britannico impersonato però da Charlie Hamm. Qui Robert interpreta il caporale, un ruolo marginale ma non per forza sovrastato dal protagonista. Presse Morali e vari dilemmi girano intorno al film e Pattinson, pur essendo il taciturno qui della situazione, riesce ad amalgamarsi al meglio per tutto l'arco della vicenda. Good Time del 2017. Devo ammetterlo, pur non avendo proprio un'ottima trama, questo film mi ha colpito proprio per l'interpretazione di Robert. In un ambiente teso, neurotico, quasi disturbante, dentro il quale il suo personaggio trasandato viene messo sempre alle strette. Un'interpretazione davvero intensa, la sua soprattutto sottolineata da degli splendidi primi piani, che racchiudono molto più di dei semplici sguardi. Remember Me. Uno dei suoi film che più preferisco in assoluto. Un lungometraggio che ha profondi significati, quali la vita ed il suo significato stesso. In questo Pattinson interpreta un ragazzo come tanti, ribelle, in cerca di una via di fuga, alle prese con una vita complicata quindi. Questo fin quando una ragazza entra nella sua vita come un fulmine a ciel sereno e la stravolge completamente. Un film al quale non dareste due lire, ma che merita davvero tanto, soprattutto perché è riuscito ad emozionarmi, fin quasi scioccandomi, grazie all'interpretazione dell'attore. Un dramma sentimentale di tutto rispetto quindi. Questi ruoli che vi ho appena citato dimostrano che Robert ce la sta mettendo tutta per dimostrare di essere un buon attore. Ha scelto film parecchio sperimentali, coraggiosi e di formazione e credo che la sua sia stata un'ottima scalata. Imbarba coloro che lo ricorderanno solo per quei due ruoli principali che lo hanno reso famoso, come un inespressivo e palido stoccafisso o come uno spaisato. Secondo voi merita una possibilità per interpretare il nuovo Batman? Mi raccomando, fatemi sapere qui sotto nei commenti le vostre opinioni in merito, soprattutto se avete visto qualcuno di questi film. Qui, viral, chiudo.